Il grande vaso formato da centinaia di foglie, design del più grande degli artisti, il divino e di uccellini, il vaso simbolo della ricettività. Il mio cuore è il vaso. Vorrei essere aperto, vuoto, pulito per ricevere la bellezza della vita, per ricevere la meraviglia. Un vaso che si possa riempire dei doni della vita spessa.